Benvenuta, regista, scrittrice, bella che sei, sei in libreria con questo non fiori ma opere di bene e racconti il tuo percorso alla ricerca delle origini della tomba, in realtà proprio della tomba però ovviamente è un percorso nella tua famiglia e nella tua vita anche in quello che uno è perché noi siamo anche le nostre radici e appunto il tuo percorso alla ricerca di tuo nonno Come hai iniziato? Con una medium? Hai iniziato con una medium che anni e anni prima avevo contattato attraverso un amico che sosteneva che insomma gli avesse cambiato la vita ovviamente era una cosa che avevo completamente dimenticato e poi nell'estate del 2020 che è stato l'anno peggiore penso nella vita di molti di certo questa signora mi convoca a Torino e io che ho sempre avuto paura del futuro perché per me ne esiste più di uno e della divinazione di tutto quello che è quel mondo che io chiamo la dimensione dell'inconsistenza, insomma spiriti, fantasmi e quella bolla di insieme di senso mi convoca a Torino e decido di accettare questa chiamata però con una sfida nel senso avendo paura del futuro vado lì per avere una storia da raccontare dalla signora medium, signora dall'età indecifrabile, dal sesso indecifrabile io dico signora ma forse era un signore, potrebbe avere 40 come 90 anni, insomma molto unico come cosa e questa, insomma lei mi regala una profezia terrificante e perderai una persona cara, non è della tua famiglia, ti mancherà moltissimo allora che tu abbia davanti un santo o un ciarlatano però ci pensi su una roba del genere, peraltro c'era la tua caramica che stava molto male aveva un tumore molto serio quindi comunque la prima impressione, l'impatto è stato piangere lei si è anche nervosita, ma cosa piangi, che c'è da piangere, la morte non esiste e le cose dipende da dove guardi le cose ho accettato di guardare la vita in questo modo e ho fatto una sorta di esorcismo con la scrittura uno scambio termodinamico, non so, e ho preso un morto, stramorto, che era mio nonno Raimundas, appunto morto nel 50 e l'ho messo al posto di una viva, secondo me nonno che io fatico a chiamare nonno perché è come dire che canta, era mio nonno, capito? era totalmente strano a me esatto, peraltro tu avevi soltanto questo documento, no? nel quale lui arrivando in Italia si dichiarava di razza ariana, no? perché essendo lui ebreo era un modo per sfuggire alle leggi razziali, leggi razziste e cominci a cercarlo nel cimitario del verano sì, la cosa incredibile è che appunto poteva finire tutto in un pomeriggio invece ci ho messo due anni pomeriggio in cui ho telefonato a mio padre perché è l'unico, diciamo, testimone vivo ancora di quella vita morta troppo presto che era appunto suo padre e gli chiedo dove fosse il padre lui col suo solito sarcasmo tutto romano adorabile, peraltro dove può essere? al cimitero, dico certo, grazie ma il cimitero di Roma del verano monumentale è una città nella città e tu sei entrata e allora hai percorso Massimiano Fuxas, tuo padre, è anche lui qui oggi per la prima volta siete insieme ciao Massimiliano, ben trovato tu avevi sei anni quando... ciao a te, come stai? bene, 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 ora che vi vedo meglio dico, tu eri piccolo piccolo quando tuo papà è morto e non l'avevi più cercato? ero sei anni e non l'hai più cercato? no, ho cercato, sapevo dov'era la tomba e l'ho vista quando a sette anni ho visto la tomba e non sono stato al funerale perché mi hanno nascosto la perdita di mio padre per alcune settimane e poi io non ho mai chiesto dove sta però avevo capito, avevo sentito che lui stava scomparendo era scomparso e l'altra cosa abbiamo mandato a Villa Sciarra che non è lontano dalla casa dove abitavamo insieme ai miei amici di infanzia erano gli Spinelli e lì abbiamo stretto ancora di più la nostra amicizia però io sentivo che c'era il funerale nella strada che era via Nicola Fabrizzi che si stava avviando verso il cimitero dove il tempo era la quinta tomba mi ricordo, era la quinta tomba partendo, andando alla Dea, entrando a destra del cimitero del Verano però non ci eravate mai stati insieme ma la cosa incredibile appunto Serena è che lo chiamo e mi dice più o meno questa cosa qui mi dice guarda è lì è l'ingresso quale ingresso? l'ingresso, ingresso conta, tot, tombe e lo trovi io faccio questa cosa la faccio più volte la faccio a tutti gli ingressi non la trovo questa tomba e ci ho messo due anni a capire non diciamo come va a finire questa storia dove questa tomba in realtà fosse perché la sua memoria quindi c'era una forma di memoria emotiva che era la sua e l'unica a cui potessi affidarmi poi c'era la memoria della burocrazia che sosteneva il contrario cioè che la tomba fosse al centro di questo buco nero che è il cimitero che più ti allontani più ti porta dentro e poi c'era la mia di memoria inesistente desiderata che è quella che ho scelto poi alla fine e ci sono una serie di coincidenze poi in questa storia perché tu hai iniziato la ricerca al verano il 15 ottobre del 2020 salvo per scoprire che tuo nonno è morto il 15 ottobre del 1950 tu scrivi dove il tempo non passa ma arriva e tutto è successo mille volte e ancora deve succedere a parte che il culto dei morti è qualcosa di bellissimo non so io non so tu ma io quando viaggio vado sempre a visitare un cimitero perché ti dice molto sul paese che rappresenta e che cosa hai scoperto di tuo nonno e che cosa hai scoperto di te grazie a questo viaggio ma è tutto inaspettato nel senso che è un'anomalia questa storia ho scoperto le origini ho scoperto la memoria ho scoperto una storia soprattutto e ho scoperto una figura che per me era completamente che cosa hai capito di lui di questo sai purtroppo nel libro spesso ci torno nel senso che quando muori giovane quasi la tua morte definisce anche la tua vita è come se risucchiasse tutto non conta più chi hai amato cosa ti piaceva il tuo cibo preferito le donne che desideravi i libri che leggevi niente sei morto giovane è quasi una colpa per certi versi e quindi quello che io ho scoperto in realtà è in parte un rapporto che ho con mio padre diverso perché diciamo ho visto il suo sguardo di bambino di sei anni in qualche modo e l'ho fatto mio e quella è stata la vera acquisizione e poi sai c'è questo mistero che ci portiamo dietro che è la nostra genetica in qualche modo che non è solo i tratti del volto voi vi sovigliate molto devo dire l'occhio la forma del viso e però tu ti porti dietro tu sei più bella beh grazie non diciamolo a papà no no ma lui deve farsi una ragione insomma uomo poi sai e quindi ti porti dietro questo segreto che è appunto genetico anche però è anche una storia è anche una memoria è anche un mondo Massimiliano tu sei uno degli italiani di più successo del mondo possiamo dirlo senza piageria no? orfano a sei anni di un rifugiato un uomo che scappava dalla veniva via dalla Lituania questo bagaglio cosa ha comportato nella tua vita e nonostante questo possiamo dire sei diventato uno degli architetti più famosi del mondo guarda mio padre non era assolutamente scappato dalla Lituania mio padre era nato nel 1910 e ha perso il padre da bambino ha perso il padre nel 14 nella prima guerra mondiale perché anche mio mio nonno che era si chiamava Michelas è morto è morto in guerra ed era ebreo ed era medico mio padre volle venire a Roma per perfezionare la sua laurea in medicina che aveva preso in Germania e venne a Roma nel periodo in cui la Lituania era indipendente i 20 anni i soli 20 anni della Lituania indipendente lì ha conosciuto all'università mia madre che era studentessa di filosofia e da lì nacque la storia ecco ma l'essere rimasto orfano così giovane ha influito sulla tua vita sentimentale affettiva emotiva anche nel rapporto con tua figlia no perché io ho dimenticato la morte dimenticavi la morte il concetto di morte per me non esistito e non esistero per tantissimi anni in più perché ho iniziato la mia carriera facendo molti progetti piccoli progetti fra i quali c'erano anche dei cimiteri e io dicevo sempre i cimiteri sono abitati dai migliori clienti del mondo non si lamentano mai Elisa non fiori ma opere di bene una frase cattolica anche rimanda a una dimensione religiosa religione sulla quale tu hai scritto anche un libro la tua riscoperta dell'ultima sì anche se i miei amici preti che l'hanno letto hanno detto che lo sguardo cristiano che tanto io inseguo si vede solo nelle ultime due pagine che comunque meglio meglio il 398 no però le ultime due sì diciamo che è un libro sulla morte e sul tempo anche se è una commedia a tutti gli effetti quello è lo sfondo del libro e la religione cattolica si basa sulla Pasqua che è la resurrezione cioè qualcuno che va nel regno dei morti e torna e il tuo rapporto con papà è cambiato dopo questa scrittura e dopo questo andaggine diciamo che io penso di aver fatto quello che forse avrebbe dovuto fare lui ma non come dovere ma solo come linearità cronologica nel senso che quello che ha detto poco fa è sicuramente avvenuto cioè lui ha dimenticato la morte come problema mentre io non la dimentico mai un secondo sono ossessionata ma da sempre tant'è che una volta una mia carissima amica mi ha detto senti ho perso tutta la mia famiglia in un mese quindi ho paura della morte ma tu perché sei così ossessionata e scrivendo questo libro ho capito che sai ci sono dei nodi che viaggiano nelle famiglie come delle delle correnti capito di senso e che poi quello che è più forte o che ha uno strumento più giusto chissà vede scioglie o prova a sciogliere quindi io credo di aver fatto una cosa più per lui che insomma devo chiudere Massimiliano quanto sei orgoglioso di Elisa diglielo è orgoglioso gli ho detto sempre ma guarda con un padre come me così bello così intelligente così di successo perché non viene a vivere tutta la vita con me questo mi sembra un po' troppo e la lascia la sua vita va bene Elisa Fucsta sono un fiori ma un'opera di bene grazie Massimiliano grazie Elisa ci vediamo domani alle 4 grazie a tutti